Nello Yemen, intrappolato dalla guerra, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Sana'a per protestare contro i raid aerei sauditi, iniziati il 26 marzo 2015 e costati la vita a 6.400 persone. L'obiettivo di ripristinare il governo di Abdur-Rabbao Mansur Hadi, destituito dai miliziani shitiuti sostenuti dall'Iran, non è stato raggiunto, mentre si sono rafforzate Al-Qaeda e l'ISIL. Da questa piazza tendiamo una mano per la pace, la pace dei coraggiosi, ha detto il leader shiita ed ex presidente Ali Abdullah Saleh. Chiediamo colloqui diretti con il regime saudita senza un ritorno al Consiglio di sicurezza dell'ONU che non è in grado di risolvere nulla. In un anno di raid la coalizione a guida saudita ha colpito mercati, ospedali, scuole, feste di nozze senza raggiungere altro obiettivo che quello di oltre 14 milioni di persone senza acqua e cibo e 10 milioni di bambini abbandonati al proprio destino.